Promuovere, informare ed intrattenere sono elementi fondamentali per il marketing di qualsiasi azienda e video e grafica sono due strumenti essenziali per questo scopo. Questo tipo di produzioni però risultano spesso complicate, richiedono tempo e sono molto costose da realizzare. La formula creativa di Splash taglia drasticamente i tempi e costi di produzione mantenendo la qualità del risultato di ottimo livello. Vediamo come. Solitamente il metodo di produzione standard inizia dalle riprese coinvolgendo uno staff dai 5 ai 20 elementi tra tecnici e attori per poi passare alla post-produzione. Questo implica molto tempo per le riprese, diversi tipi di attrezzatura video, luci eccetera e spesso è necessario tornare sul set per altre riprese in caso di errori. Splash investe tutto su produzioni d'impatto e idee concrete che non necessitano di grandi mezzi tecnici e staff per essere realizzate e mantiene una qualità alta e professionale grazie all'ampio utilizzo di post-produzione e CGI. L'effetto stupore infatti verrà dall'editing, effetti e la grafica stessa. Vediamo alcuni esempi. Video informativi. L'utilizzo di grafica e animazioni sono il modo più efficace di tagliare i costi. La scrittura della sceneggiatura è il segreto. Video promozionali. L'utilizzo di format moderni quali trailer, teaser e viral video con un concept intelligente e coinvolgente fanno sì che poche immagini parlino meglio che molte. Video social. Per acquisire followers servono contenuti intriganti, grafica accattivante e consistenza nel posting. Con l'utilizzo di templates originali, Splash rende i prodotti social veloci da produrre ed efficaci per lo scopo. Prodotti di intrattenimento. Videoscenografici, blogs, personaggi e programmi interattivi creati e pensati per la vostra clientela. Con Splash sceglierete un prodotto efficace ed onesto, di alta qualità. Sceglierete un prodotto efficace ed onesto, di alta qualità.